Si attendono sviluppi a breve sul fronte societario in Casa Pescara, come fatto intendere lunedì sera a replay dal presidente Daniele Sebastiani. La svolta si avvicina, il massimo dirigente non uscirà di scena, manterrà una buona parte delle quote della Delfino Pescara, ma sarà affiancato da altri investitori interessati a lavori di riqualificazione dello stadio adriatico. Persone introdotte allo stesso Sebastiani da Daniele Dellicarri, che sempre per bocca del presidente è un candidato autorevole, il principale, per l'incarico di direttore sportivo, cosa che potrebbe saltare solo in caso Sebastiani virasse su un'altra delle tre cordate con cui sta trattando l'allargamento della base societaria. Con l'avvento di Dellicarri sarebbe ufficialmente chiusa l'esperienza di Luca Matteassi, il cui contratto scade il 30 giugno e che nelle ultime ore è stato accostato alla Reggiana, qualora il club emiliano congedi l'attuale direttore Doriano Tosi. Salvo colpi di scena ai titoli di coda anche la parentesi 2.0 di Luciano Zauri. Si innesca così il toto allenatori. Tanti sono i nomi sul tacquino dei dirigenti biancazzurri e una volta perfezionata la questione societaria partiranno i colloqui. Se dipendesse solo da Sebastiani non ci sarebbero speranze per Zdenek Zeman a causa di ruggini del passato, ma Dellicarri era il DS del Pescara delle Meraviglie del Boemo e potrebbe mediare. Difficile, ma non da escludere, un 3.0. Occhio però al fronte emergenti. Bruno Caneo non è giovane, ha 62 anni, originario di Alghero. Ha avuto una carriera altalenante, ma nell'ultimo anno e mezzo ha fatto benissimo alla Turris. È stato accostato alla Juve Stabia, ma c'è stata una frenata. Ha avuto un contatto con le Delfino e nei prossimi giorni potrebbe incontrarsi con i dirigenti. Incontro che potrebbe interessare anche Federico Guidi, fautore della salvezza del Teramo con un calcio molto apprezzato. Il Pescara ha messo gli occhi sull'allenatore fiorentino, su di lui punta forte anche la Roma che vorrebbe affidargli la primavera per raccogliere l'eredità pesantissima di Alberto De Rossi, ma la partita è ancora aperta e nulla è stato definito. Interesse del Delfino anche per il 51enne Stefano Vecchi, che ha fatto chiudere l'ultima stagione del Pescara eliminato dalla Feralpi Salò. Vecchi, che ha anche tre partite in A al posto di Stefano Pioli con l'Inter, club con cui ha vinto anche un titolo primavera, ha un altro anno con i Leoni del Garda, ma potrebbe andare via e il Pescara ci pensa. Non ci sono stati contatti ma viene tenuto in considerazione anche Mirko Cudini, lanciato dal notaresco in Serie D nel 2018 e poi artefice del triennio d'oro del Campobasso, che ha riportato tra i pro per poi salvarlo. Insomma, il casting è aperto per una stagione che dovrà essere quella del rilancio.